di famiglia proveniente dal nord-est Italia. La madre è Giuliana ed il padre è Friulano. Sin dall'adolescenza si interessa di musica, e in particolare di rock'n'roll, diventando un fan di Elvis Presley, artista cui si ispira nello stile e nel modo di cantare. Impara a suonare la chitarra e compone le prime canzoni. All'inizio degli anni 60 il padre, che lavora per l'Alitalia, viene trasferito da Fiumicino a Linate, e la famiglia si sposta con lui a Milano. Qui Roberto viene notato da Vincenzo Micocci, che gli propone un contratto per la Dischi Ricordi e lo fa debutare nel 1963 con il primo 45 giri, contenente ora che sei già una donna e Valeria. Al momento della stipula del primo contratto con la Dischi Ricordi, dopo che il padre di Roberto minacciò fuoco e fiamme se il suo cognome fosse finito per fare rock, il boss della casa discografica, disse ad una segretaria, chiamiamolo all'inglese, Bobby, solo Bobby, lei capì male ed ecco come nacque Bobby solo. Nel 1964 partecipa al Festival di Sanremo cantando in coppia con Franchi Laine e il brano Una lacrima. Sul viso, la canzone ha il testo di Mogolle e la musica di Bobby solo che però non la firma. Non essendo ancora iscritto alla SIAE, lascia perciò la firma a lunero. Pseudonimo di Hiller Pattacini. Durante il Festival Bobby solo ha un improvviso abbassamento di voce che gli impedisce di cantare. In diretta, canta quindi in playback, uno dei primi casi, quando al Festival era assolutamente vietato. Questo gli impedisce probabilmente la vittoria a Sanremo, che otterrà invece l'anno successivo. Ma una lacrima sul viso diventa comunque un successo. Probabilmente l'esibizione in playback contribuisce notevolmente al successo del brano. Tanto che ci furono delle voci che affermarono che fu tutta una trovata pubblicitaria per promuovere il disco e allo stesso tempo avere un audio perfetto. Il successo arriva non solo in Italia dove arriva prima in classifica per otto settimane ma in tutta Europa, superando nelle vendite la versione incisa da Franky Line e ottenendo in pochi mesi il disco d'oro per il milione di copie vendute. E alla fine ne otterrà addirittura due poiché supererà i due milioni. E spinge la Dischi Ricordi a pubblicare il primo album del cantante romano. Bobby solo, stampato anche all'estero. Per l'occasione il brano Una lacrima sul viso viene anche tradotto e cantato in diverse lingue. Come per esempio Duast Jatran e Ninde Naugen in tedesco. Nello stesso anno il cantante debutta anche nel mondo del cinema con Una lacrima sul viso. musicarello con Laura Efri Chian e Nino Taranto in cui, oltre alla nota title track, interpreta altre canzoni tratte dal 33 ai giri. Sempre nel 1964 vince anche la prima edizione del Festival Bar con Credi a me. Come già ricordato, il 1965 gli porta la prima vittoria a Sanremo. Con Seppiangi Seridi eseguita anche dai New Christi Minstrels. È una specie di risarcimento per il mancato trionfo dell'anno precedente e la canzone ripete il successo di una lacrima sul viso arrivando anche in prima posizione nella classifica dei singoli. Nello stesso anno partecipa all'Eurovision Sound Contest tenutosi a Napoli con lo stesso brano, Sanremese, classificandosi al quinto posto e da un disco per l'estate 1965 con quello sbagliato. Canzone scritta da Alberto Testa e Flavio Carraresi. Chi arriva fino alla serata finale. Classificandosi al sesto posto della manifestazione e dal primo nella classifica dei singoli. Torna al festival anche l'anno successivo con questa volta. Canzone che ottiene un successo decisamente inferiore. Come anche per far piangere un uomo. Versione italiana di To Make a Big Man Cree di Tom Jones. Che viene presentata all'Alcantagiro 1966. Il successo torna con Non c'è più niente da fare. Pubblicata a dicembre del 1966. Entra in classifica l'anno dopo. Grazie al fatto di essere scelta come sigla per la serie televisiva Tutto Totò. E partecipa con successo al Cantagiro 1967. Il brano sul retro, Serenella, è scritto da Mogolle Carlo Donida. E viene inciso anche dai Dick Dick e da Luigi Tenco. Ma pubblicato solo nel 1986. Le vendite di Non c'è più niente da fare oscurano quelle del disco successivo. Canta ragazzina. Che viene presentata nuovamente a Sanremo. In coppia con Connie Francis. E che viene poi incisa anche da Mina. Tra gli altri suoi successi. Da ricordare San Francisco. 1967. Versione italiana dell'omonimo brano cantato da Scott M.C. Kenzie. Siesta. Con cui partecipa al Cantagiro 1968. Una granita di limone. 1968. Domenica di agosto. 1969. Nel 1969 arriverà una nuova vittoria a Sanremo. Abbinato a Iva Zanicchi con Zingara che arriva prima in classifica per due settimane. Nello stesso anno partecipa alla realizzazione del programma televisivo La Filibusta interpretando. Un pirata. Nel decennio successivo. Pur continuando ad incidere. Il successo diminuisce. E Bobby solo decide di aprire degli studi di registrazione. Gli studi Chantalene. Contrazione del nome dei suoi due figli. Chantal e D'Alen. Situati sulla via Aurelia a Roma. Dove tra gli altri Roberto Vecchioni inciderà nel 1975 uno dei suoi album più riusciti. Ipertensione. In cui Bobby solo si occupa dei suoni. Firmandosi con il suo vero nome. Tra gli altri album registrati negli studi. Particolarmente noto e chiaro di Loyand Altomare. In cui Bobby solo canta nei cori della canzone Sangue Freddo. ritorna al successo nel 1980 con Gelosia. Con cui partecipa al Festival di Sanremo. Successo replicato l'anno successivo con Non posso perderti e nel 1982 con Tu stai. Mentre la canzone è presentata due anni dopo. Ancora ti vorrei. Non incontra i favori del pubblico. Negli anni 80. Insieme a Rosanna Fratello e Little Tony. Forma il supergruppo Hero. Bo. Ti. Dalle loro iniziali. Che riscuote un certo successo. Grazie alla partecipazione ad una trasmissione televisiva e la pubblicazione di un album. contenente brani presentati al Festival di Sanremo. Bobby solo ha anche avuto un notevole successo sui mercati tedesco, francese e spagnolo con versione in lingua dei suoi successi. Nel 1989 vince con una lacrima sul viso la trasmissione musicale C'era una volta il Festival. Nel 1992 interprete, insieme con Rossana Casale, della colonna sonora della versione italiana di Eddie e la banda del Sole Luminoso. Rocka Doodle, film animato di Don Blount. È del 1996 l'album autoprodotto quindicesimo grado round. Nel 2003 torna al Festival di Sanremo con Non si cresce mai. In duetto con l'amico di sempre Little Tony. Riprende poi l'attività dal vivo. Che continua tuttora. Ed in cui presenta, oltre ai suoi successi, anche molte cover di Elvis Fratley. Little Richard, Chuck Berry ed altri personaggi del rock'n'roll. Come Bebo Pallula, Blue Suede Shoes, Tutti Frutti, Rip It Up, tra il 2001 ed il 2006 registra cinque album con la casa discografica Azzurra Music. That's Amore, 2001, Let's Swing, 2003, Homemade Johnny Cash, 2004, The Sons of John Lee Hooker, 2005, Christmas with Bobby Solo, 2006. Collabora con Imarta sui tubi cantando nel brano Via Dante. Singolo estratto dall'album C'è Gente che deve dormire del 2005. Il 10 aprile 2009 è uscito il suo ultimo lavoro discografico. E a S Y Jazz e Neapolitan Song. Published by, Si fare edizioni musicali. Prodotto dal pianista e arrangiatore. Francesco Di Gilio. Nel secondo semestre 2009 è uscito un suo ulteriore lavoro discografico. On The Road, cd promozionale che lo vede ritornare al genere rock and roll con brani iscritti in collaborazione. Con tre autori specializzati. Andrea Raspolini di Bologna. Andrea Zappoli di Bologna. Luca Buongiorni di Bellaria. RN. Ed è edito da Ari e le edizioni discografiche di Forlì. Nel novembre 2011 esce l'album Natalizio. Bobby Christmas, Published by, Si fare edizioni musicali. Arrangiato e prodotto dal pianista e produttore discografico. Francesco Di Gilio. Il 9 settembre 2013 esce in digitale. Per l'etichetta Display Music. Il brano singolo Una nuova lacrima. Brano rap che vede la prima partecipazione discografica del piccolo Ryan. Il 5 ottobre 2013 viene colto da un malore a città di Castello. Ricoverato in condizioni stabili. Viene dimesso due giorni dopo. Il 14 febbraio 2014 esce Muchacha. Un EP di quattro tracce dedicato al mondo della musica da ballo. Prodotto ed edito da Montefeltro Edizioni Musicali. Ed il videoclip del Cia 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 Muchacha. Nel 2015, in occasione del suo settantesimo compleanno. Bobby solo presenta il nuovo album Meravigliosa Vita. Contenente nove brani inediti. Nel 2016, a mille voci presenta poi nuove interpretazioni anche in lingua napoletana. Matti – Scusa